Ben ritrovati sulla pagina Facebook di Tiburno per lo speciale dedicato al palazzetto dello sport di Guidogna. Siamo fra il bivio e la lottizzazione della sorgente. Dietro di me c'è questa struttura rimasta eterna e compiuta per anni e che finalmente domani aprirà i battenti. Una data davvero storica per la città dell'area da questa mattina. Qui si alternano operai e amministratori, si stanno ultimando gli ultimi dettagli prima della cerimonia ufficiale di domani mattina e domani pomeriggio ci sarà il primo match dell'Europa Roma Basket che scenderà in campo qui nella struttura di Guidogna. Una data importante anche perché per realizzare quest'opera dalla prima idea sono passati 30 anni e vediamo nel servizio quali sono le tappe principali della storia. È l'opera più chiacchierata della città, realizzata, collaudata e finalmente inaugurata dopo oltre 20 anni, 6 consigliature e 3 commissariamenti. Quella del Palazzetto dello Sport al Bivio di Guidogna è un'idea nata alla fine degli anni 90 durante l'amministrazione di centrosinistra del sindaco Ezio Cerqua. Il progetto fu affidato allo studio Valle di Roma, perfezionato durante l'amministrazione del sindaco Stefano Sassano, eletto nel 2000 e che prese definitivamente corpo durante la successiva gestione di centrosinistra, vincitrice delle elezioni del 2005. L'anno successivo, era il 2006 ed il sindaco era Filippo Lippiello, la Sportland Appalti di Rossi SC Sass di Barisciano, insieme alla CTC SRL di Caserta, si aggiudicarono la gara d'appalto garantendo i lavori per un ammontare complessivo di contratto di 3.860.686,52 euro, oltreiva al 10%. L'opera fu dichiarata ufficialmente terminata il 30 giugno 2014 al termine del primo mandato del sindaco di centrodestra Eligio Rubéis, ma a causa di mutate indicazioni normative e per piccole modifiche eseguite in corso d'opera, fu necessario richiedere un nuovo parere sul progetto al comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dalla Commissione Comunale di Vigilanza dei locali di pubblico spettacolo. Vinte le elezioni amministrative del 2017 al ballottaggio contro il Partito Democratico, l'amministrazione grillina del sindaco Michel Barbè si ritrovò alle prese con un'opera ultimata ma ancora incompleta. All'esterno mancavano il collaudo amministrativo, il piazzale antistante ed i parcheggi, che secondo una stima approssimativa si aggiravano intorno ai 200.000 euro. All'interno mancavano alcuni interventi che la Sportland Appalti, dell'imprenditore abruzzese Sergio Rossi, si impegnò ad eseguire, a condizione però che l'amministrazione liquidasse alla ditta circa 750.000 euro, una somma richiesta per i lavori eseguiti in più ed il risalcimento d'anni. D'altronde il palazzetto era rimasto per anni abbandonato a se stesso, in balia di ladri e vandali, oltre che all'usura del tempo. Alla fine della fiera, il palazzetto dello Sport al vivo di Guidonia è costato qualcosa come 6 milioni e mezzo di euro. Archiviate le pagine più lontane di questa storia, vediamo come l'amministrazione guidoniana è arrivata ad affidare la gestione di questa struttura e quindi come questa struttura prenderà vita. Due mesi intensi per il palazzetto dello Sport di Guidonia perché dal primo ottobre, giorno in cui il dirigente comunale lavori pubblici Egidio Santa Maria ha preso atto della conformità dell'impianto dichiarandolo agibile, è stato un susseguirsi di notizie ed interventi atti al suo affidamento in tempi record e così è stato infatti perché dai lavori di pulizia fino all'accordo per la sorveglianza dell'impianto che in passato era stato vandalizzato, gli interventi ne sono stati fatti. È arrivata poi l'offerta, la prima offerta, quella dell'Atlante Euro Basket Roma, una società con le spalle solide che da sei anni milita nel campionato di Serie A2 di basket e che da tempo è alla ricerca di un nuovo impianto, di una nuova casa per disputare le sue partite. Quindi dopo la pubblicazione del bando sembrava poter essere una formalità il suo affidamento alla società cestistica romana ma proprio allo scadere è pervenuta via pecca al comune anche la manifestazione di interesse della FIPAB Lazio, la federazione italiana a palla a volo, il che ha leggermente allungato i tempi ma non impedito l'apertura dell'impianto. Si è proceduto quindi alla nomina di una commissione esaminatrice per valutare le due offerte ma questa è stata anticipata nella sua decisione dall'accordo proprio fra l'Euro Basket e la FIPAB che alla fine dei conti gestiranno insieme l'impianto sito al bivio di Guidonia. Non è una collaborazione nuova perché sia il presidente dell'Euro Basket Armando Bonamici che quello della FIPAB Andrea Burlandi avevano già collaborato in passato. Quattro anni fa infatti avevano gestito quella che era la struttura dell'impianto del Palatiziano a Roma con ottimi risultati alternandosi fra la serie A2 di basket e le competizioni disputate da una squadra sperimentale di pallavolo femminile facente capo proprio alla federazione. Dopo tutte le attese del caso martedì 23 novembre è finalmente arrivata l'ufficialità quindi per dieci mesi in attesa di un bando a più lungo termine che verrà pubblicato prossimamente FIPAB ed Euro Basket si alterneranno di settimana in settimana sulla base del calendario sportivo della società cestista romana e oltre alle spese di affidamento condivideranno anche le spese di gestione, le utenze e la guardiania che saranno suddivise ovviamente in base ai tempi di utilizzo dell'una e dell'altra parte. Mentre l'Euro Basket disputerà le gare casalinghe del campionato di serie A2 a Guidonia l'idea della federazione invece è quella di disputare e ospitare allenamenti di nazionali giovanili e far svolgere all'interno dell'impianto competizioni regionali e nazionali appunto all'interno del palazzetto. Le società del territorio di Guidonia di basket e pallavolo verranno coinvolte, questa è una cosa che ci hanno tenuto a sottolineare tutti, a partire dal comune fino alla FIPAB e l'Euro Basket, appunto avranno l'opportunità di usufruire del palazzetto laddove lo riterranno opportuno. Domenica 28 novembre sarà quindi il grande giorno con il taglio del nastro alle ore 11.30, le visite aperte alla cittadinanza fino alle ore 13 e la conferenza stampa dell'amministrazione che è invece in programma alle ore 12.00. Nel pomeriggio invece la prima gara sportiva con la sfida alle 17.00 fra l'Atlanta Euro Basket Roma e Ferrara. Questo palazzetto è un oggetto del desiderio per tantissime società sportive guidoniane, è un oggetto del mistero per le centinaia di persone che ogni giorno vengono qui a camminare, a correre e che lo vedevano perennemente chiuso, ma andiamo a sentire che cosa pensano alcune delle persone che frequentano questa zona e che hanno assistito agli ultimi anni della vita di questo palazzetto. Alle nostre spalle c'è il palazzetto dello sport di Guidonia, sai che domani aprirà? Ma sinceramente l'ho scoperto tramite Tiburno, se non lo sapevo, l'ho scoperto proprio tramite voi. Sono anni che questo palazzetto è in costruzione, tu hai modo di vederlo durante le varie fasi di lavorazione? Sì, io vengo sempre qui a correre, a fare attività sportiva qui intorno perché siamo una comunità di sportivi e ho visto dal 2013 che l'ho visto crescere questo palazzetto lo sport e poi è rimasto in totale di abbandono. Ma tu sapevi i motivi per cui non sono mai riusciti a finirlo prima di oggi? No, sinceramente ho sempre pensato che o ci fosse una bancarotta o qualcosa del genere o magari ci fosse stata una frode o magari un appalto fallito. Soprattutto da cittadino e soprattutto da sportivo, pensi che una struttura del genere possa essere utile alla città? Ma secondo me sì, soprattutto anche per il luogo dove è stato fatto, perché comunque qui, come dicevo prima, siamo una comunità di sportivi in questa zona e quindi sicuramente beneficerà tante persone. Cosa pensi che dovrebbero farci all'interno? Secondo me dovrebbero organizzare delle attività che coinvolgano di più le persone, dei residenti della zona e soprattutto, secondo me, agevolare l'attività sportiva alle persone che non possono permettersi di essere normale. Qui verranno a giocare la domenica una squadra di basket importante di Roma e anche alcune attività della Federazione Italiana di Palla a Volo. Ti saresti interessato a venire la domenica a vedere questi match, questi incontri di cartelloni anche se non sono squadre di guidonia? Certamente no, sicuramente. Come sostenitore dello sport, assolutamente verrei. Dovrei parlare prima dell'estate. Sapete che inaugura domenica domani? No. E che cosa ci faranno dentro? Pensavo fosse più che altro per l'attività di nuoto, visto che è una piscina, poi che ci fosse altro tipo di attività non sapevo. Cosa pensate di questa struttura che è rimasta incompleta per anni e finalmente aprirà al pubblico? Beh, è una bella domanda perché mi sembra sette anni che è in costruzione, abbiamo visto da quando ho iniziato a costruirla adesso e poi è stata chiusa per tanti anni, quindi finalmente si apre un bene per tutti gli sportivi di qui di zona. Lei qui Vigliamo viene a correre e ad allenarsi, sapeva dell'apertura del palazzetto? La verità è che mi ha trovato per sorpresa che questa apertura è domani, pensava più avanti, perché da ora che è chiusa questo, parliamo di un paio, cinque anni, sei anni fa, un dia di nuoto, che questo elefante era morto là. Raramente hanno avuto le comunali, si è aperto il grande palazzetto dello sport. Mi auguro per bene per tutta la gente sportiva della zona e della città di Tivoli, che questo sia un grande apporto e anche la città di Guidonia, scusate, per questo che è il comune di Guidonia, perché noi siamo di altre strade, siamo a Tivoli, solo per quello. E quando lo vedevate, venivate qui a correre e lo vedevate chiuso, cosa pensavate? Cosa pensavamo? Le intese cose che pensano tutti. Un altro spreco dello Stato per un grande mondiale nuoto che mai si è sviluppato una gara in questo posto. Pertroppo è così l'Italia, ne abbiamo pazienza a dire. Oggi, un passo avanti. Auguriamo per bene che questo sia un grande apporto per tutta la comunità sportiva della zona. E lei ringrazio perché mi stia freddando, quindi continuo a fare la mia corsetta che voi è al chilometro cinque. Buongiorno. Grazie. Oltre a queste testimonianze, questa mattina abbiamo raccolto anche un messaggio speciale che ci sentiamo di ricondividere e sottoporre all'attenzione del sindaco e dell'amministrazione comunale. Sta per aprire il palazzetto dello sport e noi qui abbiamo una richiesta davvero speciale che ci fa piacere far pervenire al sindaco di Guidonia, magari potrebbe essere un buon consiglio per l'amministrazione. Io sono ciega e vorrei tanto che mettessi magari una corda per farlo nuotare a noi, una corda speciale, perché giustamente c'è la separazione tra corsa e corsa, però è un problema che possiamo fare incidenti, non lo so, io non sono stata mai a fare nuoto da ciega perché sono rimasta più o meno quattro anni fa ciega per la retinitica pigmentosa, però vorrei tanto che pensassi anche a noi invalidi. Quindi nel prossimo bando, quando ci sarà proprio la gestione del palazzetto nuoto, ma anche altre discipline? Sì, come no, c'è anche invalidi che non possono andare a qualsiasi parte, magari che ci pensino un po' a noi, perché anche noi esistiamo. Grazie. Prego. Prima di finire questo speciale dedicato al palazzetto dello sport, vogliamo ricondividere il messaggio che ha lanciato il sindaco Michel Barbè per invitare la cittadinanza a partecipare alla grande festa di domani. Ecco, ci siamo. Come potete vedere alle mie spalle, si sta allenando la squadra di Eurobasket presso il Palazzo Sport di Guidogno Montecelio. Invito tutti quanti, a tutti i cittadini, di essere presenti domani domenica alle ore 11.30 per l'inaugurazione di questo palazzo. Pertanto, veramente, venite a visitarlo con le vostre famiglie, perché veramente è uno spettacolo. Dopo più di 15 anni, finalmente possiamo ridare il Palazzo Sport di Guidogno Montecelio alla città. Poi, in pomeriggio, si svolgerà alle ore 10.00 a 7.00 la partita contro Eurobasket contro Top Secret di Ferrara. Vi aspettiamo tutti, mi raccomando, domani alle 11.30 per l'inaugurazione della visita fino alle 13.00. domani, per l'inaugurazione e per la prima partita che si svolgerà qui al Palazzetto dello Sport di Guidogno a Tiburno TV, sarà un'ampia diffusione della giornata di domani con delle dirette, dei videoservizi che saranno pubblicati poi nel corso della giornata e della settimana sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube, quindi continuate a seguire Tiburno TV e soprattutto anche Tiburno Cartaceo, dove già nelle scorse settimane ci sono stati diffusi e ampi articoli che parlavano di questa struttura e ci saranno altre pagine dedicate al futuro del Palazzetto dello Sport di Guidogno a presto.